L'inserimento dell'Avvocato in Costituzione è fondamentale per sancire l'importanza del ruolo degli Avvocati come pilastro per il diritto alla difesa e della tutela dei diritti dei cittadini. Questa è la proposta del Consiglio Nazionale Forense di cui si è discusso ieri nell'ambito dell'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Trapani. Quello dell'Avvocato nella Costituzione, uno dei cavalli di battaglia del Presidente Nazionale del CNF Andrea Mascherin che ieri ha illustrato la proposta fatta al Governo che prevede la libertà e l'autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica. È un convegno importante perché affronta il tema del ruolo dell'Avvocato in Costituzione così come noi vorremmo attualizzarlo quindi con un potenziamento della figura della nostra professione come garanzia di una giurisdizione autonoma e dipendente perché noi pensiamo che un cittadino abbia diritto a un giudice non condizionabile, quindi forte ma deve avere anche un difensore non condizionabile e forte. E l'unico equilibratore del giudice non può essere che l'Avvocato, quale equilibratore tecnico quindi è in interesse di uno Stato di diritto un Avvocato in Costituzione. Ad aprire i lavori il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, Salvatore Ceravino. C'è l'esigenza da parte degli Avvocati di far capire che occorre avvicinarsi a un esame ancora più attento della legislazione poiché è necessaria anche per un ammodernamento della legislazione e un ammodernamento della maniera di espletare la propria professione di Avvocato che innanzitutto è una professione che richiede lealtà, competenza e indipendenza.